Ciao, oggi andiamo a Bienate, a due passi da Bussarsizio e da Legnano. La palazzina di quelle recenti è bella da vedere. L'appartamento ha una bella zona giorno, comoda e con un terrazzino dove puoi mettere un tavolo per mangiare fuori. Secondo me è da vedere. A proposito, c'è anche un box bello spazioso. A proposito, c'è anche un box bello spazioso. A proposito, c'è anche un box bello spazioso. A proposito, c'è anche un box bello spazioso.